Allora, bella vittoria in rimonta, vittoria di carattere, visto che si era andata in difficoltà poi nel quarto set e nel tie-break abbiamo fatto valere i valori in campo. Assolutamente sì, ci tenevamo molto a portare a casa questa vittoria qua al Palabartone in casa nostra per noi, per le persone che sono venute a seguirci, che ci sostengono sempre da tutta la stagione. Quindi è una vittoria importante, nel senso che abbiamo giocato contro una squadra molto fisica, di molta potenza, in battuta, in attacco, quindi siamo andati in difficoltà, siamo stati bravi a stare lì e a reagire al momento che avevamo davanti. L'importanza di aver portato alla fine a casa la vittoria in questo mini girone di cinque giornate, oggi si è giocato la terza, martedì per la quarta arriva Modena in questo Palabartone, dove speriamo di vedere anche più pubblico, Picci. Assolutamente sì, nel senso che noi, cioè, le vittorie comunque danno morale, danno sempre morale e quindi sia per noi, per la squadra, per le persone, quindi noi aspettiamo tutti per martedì al Palabartone.